Un'interrogazione per chiedere al Presidente della Regione Cristian Solinas e all'Assessore Regionale dei Trasporti Antonio Moro chiarimenti sulla scelta da parte della Regione di riconfermare la gestione della linea ferroviaria Nuro-Macomere fino al 31 dicembre 2031 all'Azienda dei Trasporti Regionale Arst, nonostante l'approvazione all'unanimità lo scorso 26 ottobre di una mozione con la quale la Giunta regionale si impegnava a cedere la proprietà e la gestione della linea RFI per la sua riqualificazione a scartamento ordinario. A presentarla in Consiglio regionale il gruppo dei progressisti con le firme del capogruppo Francesco Agus, Di Gianfranco Satta e Massimo Zedda. La decisione presa dalla Regione con la delibera del 21 dicembre 2022 secondo i progressisti che riconferma l'incarico a Arst per altri otto anni di fatto preclude qualsiasi possibilità di inserire la Nuro-Macomere tra le linee di interesse nazionale e quindi di accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR e dalla stessa rete ferroviaria italiana. Altra richiesta dell'interrogazione è la richiesta alla Giunta di valutare la modifica dei contenuti e di richiedere la convocazione immediata di un tavolo con il Ministero dei Trasporti e RFI per concordare, come secondo impegno dello scorso ottobre, l'accessione della Nuro-Macomere alla rete nazionale. Di senso anche da parte del Comitato Trenitalia Nurese, dal 2017 impegnato nella battaglia per liberare Nuro dal primato di unico capoluogo di provincia privo di linee a scartamento ordinario che ricorda anche le spese ingenti sostenute dalla Regione Sardegna per l'acquisto dei trenini Stadler a scartamento ridotto in soli sei anni. 12 milioni di euro nel 2017 e 77 milioni nel 2023. Il servizio, scrive Claudio Solinas, presidente del Comitato, sarà identico perché la velocità non è determinata dai treni ma dalla infrastruttura. La spesa è cresciuta senza misure e senza alcuna valida ragione. È inaccettabile.